Ciao amici di Italia Talk Games, buongiorno, lunedì 10 gennaio, per me è una giornata un po' triste perché dopo due settimane di relative semiferie, diciamo, ci sono delle cose di lavoro che devo fare un po' sempre, ma proprio minime, da oggi si ricomincia un po' con il tram tram quotidiano clonzueto. Comunque, lunedì 10 gennaio ci riporta, anzi per meglio dire, l'evento World Wide Claps di eFootball 2022, quello che ci consente di scegliere un po' tutte le squadre, come potete vedere ce ne sono tantissime, serie A, serie B, squadre argentine, squadre inglesi, insomma, c'è proprio una bella scelta. Ovviamente anche questo fa parte del Preseason Camping che finisce il 19 gennaio, l'importante è fare un certo numero di gol e cercare di fare almeno 40 partite per prendere Raul, in realtà fino a 100 partite danno premi differenti. E qui troviamo tutte le squadre, come dicevo, della Ligan, Premier League, Liga Spagnola, altre squadre europee, serie A, serie B, Sud America, campionato cileno, campionato argentino, campionato brasiliano, e poi anche le squadre, delle squadre thailandesi e dell'FC Champions League, quindi un po' di tutta l'Asia. Allora, volevo vedere soltanto un attimo quali fossero, prendiamo il Venezia, no, dopo va a finire che non mi fa tornare più indietro, sto pensando a una squadra che non ho preso mai, e non ho preso mai la Juve, prendiamo la Juve a questo giro, ho gol segnati, quindi questo è abbastanza semplice come evento. Primo evento almeno un gol, secondo evento almeno quattro gol, terzo evento almeno sette gol. Quindi diciamo che come evento è piuttosto semplice e quindi cercherò di fare tutte le sfide entro mercoledì, sperando di poter fare poche partite, prendere 30.000 GP dopo che ieri non sono riuscito a completare il terzo evento con Lione, però l'importante per me è soprattutto arrivare a 40 partite prima della scadenza del 19 gennaio, perché voglio assolutamente Raul per quando uscirà Creative Teams. A proposito di uscite e di aggiornamenti di Football 2022, come potete aver letto nel titolo di questo video, ci sono indiscrezioni importanti sul rilascio non di Creative Teams e quindi della versione 1.0.0, cioè il gioco fra virgolette almeno con una parvenza di completezza, cioè comunque con una modalità importante a Creative Teams, ma stiamo parlando della versione 0.9.2, attualmente i Football è fermo, la versione 0.9.1. Allora, il solito, il nostro amico brasiliano Renan Galvani ha dato due indiscrezioni nel giro di qualche giorno, che oggi vi riporto soltanto perché la prima mi sembrava un po' frivola, fra virgolette, mentre la seconda ha più senso. La prima era che, siccome il trailer di UFL uscirà il 27 gennaio, era possibile che il Football 2022 rispondesse al trailer con il rilascio della versione 0.9.2 di Football. E questo, diciamo, secondo me era un po', tra virgolette, frivola, nel senso che era una sua ipotesi di marketing, di comunicazione. Però, due giorni fa invece Galvani è stato più preciso, più analitico nella sua indiscrezione, e ha mostrato nello SteamDB, cioè questo sito che mostra un po' i rilasci dei giochi all'interno di Steam, ma dopo sappiamo che i rilasci su PC avvengono in contemporanea anche sulle console, del fatto che potrebbe arrivare tra il 27 gennaio e il 3 febbraio proprio questo aggiornamento 0.9.2. E sarebbe anche ora, diciamo, visto che siamo in inverno inoltrato, il 18-19 finisce la prima campagna pre-season, probabilmente c'era un'altra, ma alla fine la campagna pre-season è una cosa che esce un po' dal gioco, ci dà dei premi, ma del gioco in sé non cambia nulla. Si spera quindi che sia vero che tra il 27 gennaio e il 3 febbraio arrivi finalmente questa benedetta 0.9.2, che sicuramente andrà a incidere sul gameplay e forse anche sulla grafica, questo non so dirvelo in assoluto, sicuramente sul gameplay, ma si spera, si spera, però questo assolutamente è un'ipotesi che fa Galvani, che faccio io, che fanno tanti, si spera, ma ripeto niente di ufficiale, che possano arrivare anche alcune modalità, le due online più gettonate sono le divisioni online, che non porterebbe a chissà quale cambiamento, diciamo, non ci vuole chissà cosa, non è il creative teams, e magari la possibilità di giocare in lobby e magari anche in offline, che da nove squadre ce ne siano un po' di più, perché davvero per chi gioca solo offline nei football è davvero ben poca cosa dopo quasi quattro mesi dall'uscita. Quindi staremo a vedere, ovviamente sul canale YouTube di Italia Top Games vi terremo aggiornati assolutamente su come ci siano indiscrezioni o come novità ufficiali, per intanto giocatevi il World Wide Clubs fino a mercoledì, poi da giovedì comincia un'altra campagna, vi ricordo che i premi vanno, cioè che le partite, i gol vanno fatte entro il 19 di gennaio, perché sì, continuano fino al 20, ma continuano fino a luna di notte, quindi sostanzialmente la campagna finisce il 19 di gennaio. Va bene, grazie per l'attenzione, buon divertimento con i football, se ancora non vi siete iscritti al canale fatelo subito, se vi va e dovete fare acquisti su Amazon, passando per il link presente nella descrizione del video, supportate il canale, e sia moralmente, cioè ci fate capire che per voi è importante il canale, sia concretamente per il supporto delle spese dello spazio hosting per i quattro siti, per il rinnovo dei domini, per le attrezzature che ci servono per portare avanti il network e il canale, e bla bla bla, voi non costano un centesimo, ovviamente non vi costano un centesimo in più i vostri acquisti, quindi una piccolissima percentuale dei vostri acquisti va appunto per le spese del nostro canale, grazie come al solito per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video, ciao!